Buongiorno a tutti, qui Francesco, bentornati ad un altro episodio delle testimonianze lette ad alta voce. Questa testimonianza è del 10 luglio 2023 e viene dalla Malesia. Congestione cerebrale, cioè un accumulo di sangue eccessivo nell'area del cervello. Mio padre cadde e soffrì di una congestione cerebrale seria. Non voglio che il mio padre 80enne si debba sottopore ad un intervento chirurgico al cervello perché i rischi sarebbero troppo alti. Ho anche paura degli effetti collaterali. Per di più dovremmo stanziare una somma di circa dai 20 ai 50.000 ringgit che sono all'incirca dai 3.500 ai 9.000 euro per l'operazione. Il dottore ci ha detto che comunque non c'è nessuna medicina che può guarire la congestione cerebrale. Un nostro amico ci ha introdotto al LifeWave X39. In primo istante mi domandai ma com'è possibile che un piccolo adesivo o cerottino sia così potente, però vidi che la salute del mio amico continuava a migliorare e quindi decisi di provare il cerotto io stesso. Dopodiché ebbi la fiducia di farlo provare a mio padre. Mio padre iniziò ad utilizzare i cerotti da subito dopo la sua caduta e le lesioni cerebrali che ne seguirono. Dopo sei mesi che usa i cerotti vedo un enorme miglioramento nella condizione, nella forma fisica di mio padre e nella sua chiarezza mentale. Il costo è anche ragionevole, molto più economico rispetto all'intervento chirurgico. Siamo molto grati di aver trovato la LifeWave. Ringrazio questo signore della testimonianza e grazie a voi per aver seguito questa brevissima puntata delle testimonianze letta ad alta voce. Vi ringrazio, ci vediamo alla prossima puntata.